Ed ora l'arte potrebbe essere di Leonardo, l'angelo annunciante esposto fino al 19 dicembre in San Franceschetto a Lucca, un'opera in terracotta dipinta restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure. Francesco Tei. Un'opera dall'autore ancora sconosciuto, Carlo Ludovico Ragghianti, la scrisse alla bottega del Verrocchio. Carlo Pedretti fece invece, per questo angelo in terracotta di fine 400 inizio 500, il nome dell'allieve più illustre del Verrocchio, Leonardo da Vinci, di cui questa scultura sarebbe un'opera giovanile. Quello che è sicuro è che, restaurato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, l'angelo annunciante è finalmente tornato nella terra di Lucca, da cui viene. Era infatti nella pieve di San Gennaro, sulle colline di Capanuri, dove dovrebbe ora tornare. Adesso è nella chiesa di San Franceschetto a Lucca, l'esposizione che documenta anche il restauro, un restauro che ha restituito tra l'altro all'opera la Policromia, che era pressoché scomparsa, si intitola Se fosse un angelo di Leonardo, l'arcangelo Gabriele di San Gennaro in Lucchesia e il suo restauro. I curatori sono Ilaria Boncompagno, Ernesto Riggero e Laura Speranza. La soprintendenza ha coordinato questa operazione, che ha visto protagonisti, istituzioni locali, straniere, enti, fondazioni, soprintendenza, Arcigiocesi, il centro di OLEV, che ha lanciato la freccia e speriamo che essendo l'angelo, il simbolo, il messaggero per eccellenza, ci annunci la rinascita. Questa scultura a fine Settecento, colpita accidentalmente da una scala, finì letteralmente a pezzi.